Allora, tutti in Bravo, stendiamo allo significato, diciamo così, alla traduzione in italiano, perché sarebbe un gruppo in movimento, in trambusto, no? Travolo e trambusto, perciò possiamo dire movimento negativo e anche positivo, perché c'è sia il conflitto che comunque è un momento di coesione, è proprio il fatto alla fine del gruppo, che ha questi due aspetti e l'ho riscontrato molto con questo progetto. Trooping Travel è un progetto che è nato dal bando Youth Freak Change dell'Unione Europea, che il gruppo Orgo Giovani ha vinto e è consistito in una settimana di accoglienza di un gruppo di ragazzi olandesi. Le finalità del progetto consistevano nell'integrazione tra persone con background diversi, che provenivano da culture diverse, quindi c'era la cultura italiana e quella olandese, ma all'interno dei gruppi, dei due gruppi, c'erano delle culture comunque diverse. Quindi ad esempio c'erano i… Grazie a tutti.